Buongiorno, oggi è una domenica speciale e riflettevo proprio su questo. Cos'è che rende i giorni speciali? I motivi possono essere molti, a volte è quando fai qualcosa in cui ti senti ispirato, un po' come quando ho fatto questo lavoro. Non saprei neanche spiegarvi come realizzarlo, ma comunque sono cosciente di aver fatto un buon lavoro. Soprattutto è una di quelle cose che ti soddisfano al di là del risultato. Anche oggi, come ho detto, è un giorno speciale. È un giorno che fa parte dei cosiddetti giorni rituali. Non solo è domenica, ma è anche ferragosto. E come tale è necessario che la trascorriamo e la festeggiamo nel migliore dei modi possibili. Altrimenti diventerà un giorno come gli altri. Ed è per questo che a tutti voi che avete la pazienza di seguirmi, auguro una buona domenica di ferragosto.